Nella Diocesi di Mantua ancora oggi sono 83 le chiese considerate inagibili, come diretta conseguenza del sisma che il 20 e il 29 maggio ha danneggiato il 42% degli edifici di culto presenti in Diocesi. La Diocesi di Milano ha scelto così di promuovere una raccolta di fondi con l'iniziativa Le nostre chiese e la storia di tutti. A presentare l'iniziativa il Vescovo di Mantua, Monsignor Roberto Busti, che pur affermando che la priorità della ricostruzione deve passare dalle case e dalla ripresa dell'attività produttiva, ha anche però voluto ribadire come la situazione per le chiese resti drammatica. Chi è rivolto questo appello? Ma è rivolta un po' a tutti, evidentemente a tutti, ai cristiani, ai cattolici, alle comunità della Lombardia che ci hanno già ascoltato e che già ci aiutano. Vorremmo appunto che con questi gesti, tanti piccoli gesti, che ci diano una grande speranza del poter andare avanti e ridare a tutti nel più breve tempo possibile la loro chiesa. Per alcune sarà difficile, dovremo prospettare tempi più lunghi, ma almeno che queste comunità abbiano un posto dove pregare, dove portare i loro morti, dove fare la prima comunione ai loro bambini, insomma un posto che sia il più possibile somigliante a una chiesa viva. Il danno provocato alle chiese del Mantovano è un danno che colpisce tutta la collettività. Affrontare oggi la ricostruzione lì vuol dire intervenire almeno su tre aree, gli edifici storici, gli edifici di culto e le strutture stesse dei centri storici delle città, dove ci vuole il progetto, la capacità di aspettare, perché queste robe non si fanno in un attimo, e i danari. Allora l'unica ipotesi a mio parere è che questa questione venga risolta a livello mondiale, gli italiani non sono in grado. Bisogna avere coraggio di dire se eviteli, cioè considerare l'Italia una delle culle o la culla della civiltà d'Occidente e dire, beh, saranno ben anche pofati i vostri, cioè nel resto del mondo, se questi sono il posto dei tre snonni, date una mano agli antenati. Sul sito aiutamantova.it sono proposti alcuni video reportage, uno spot che racconta la situazione del Mantovano, spot che sarà proiettato in queste settimane nei cinema cattolici del territorio, oltre alle modalità con le quali poter aderire e contribuire per questa iniziativa. Quando è caduto il campanile, una delle campane ha suonato per l'ultima volta. Quando scompare una chiesa, la casa tra le case, la più bella casa tra le altre case, perché così ha voluto la gente, scompare anche un po' di speranza. Per questo io chiedo a tutti di non dimenticare questa gente, di non dimenticare tutti noi.